Perché ha deciso di investire, di aiutare il Varese in questo momento comunque difficile? Una scommessa con me stesso e con la cittadinanza. Riportiamo in un senso di forza il Varese Calcio, che è uno dei valori più importanti che conserva la nostra città ormai da anni. È la storicità, è la linfa del nostro paese. È fiducioso per il futuro societario innanzitutto, perché di questo si tratta del Varese 1910? Sì, nei brevi colloqui, ma che sono stati determinanti, sinceri e soprattutto caratterizzati da lealtà, di operatività vera, di spirito, la risposta è assolutamente sì. Il nostro vuole essere un richiamo per altri amici di grande avventura. Nelle prossime ore parlerà la squadra e se sì, cosa ha intenzione di dire alla squadra? Quello di portare quello che sanno fare loro, la vittoria, di trasmettere quello che a noi serve, l'altro carburante, quello che non si vede. Il carburante vero è l'ossigeno, il rosso fuoco determinante, determinativo per la continuità del Varese Calcio. E invece il messaggio ai tifosi che, insomma, tengono sempre sotto esame il Varese? I tifosi lunedì devono tornare a casa senza voce. Vogliamo cori ultrasonori, vogliamo cori al genoma esplosivo, vogliamo le curve, non sto a dire quali, lo sanno loro, con gli shot, con gli scoppi, con le bordate. Diamo quello che siamo, il valore, il valore del potere del calcio a Varese. Rispetto a chi l'ha preceduta, come pensa di poter coinvolgere gli imprenditori varesini? Semplicemente con un carattere, quello spirituale, la devozione a una cosa che ormai è dimenticata da tempo, al senso vero sportivo, quello che ha caratterizzato e che caratterizza ancora le grandi squadre, nel loro bene e nel loro male. Il calcio è questo, senza limitazioni, senza umiltà. Lei si è qualificato come professore, si sente un po' anche professore del calcio? Ma io mi sento semplicemente Pierpaolo Cassarà, un uomo che ha creduto nello spirito sportivo, nello spirito contenuto in questi giovani ragazzi, nelle squadre del calcio giovanile, ma soprattutto in quelli che vedremo sul campo verde lunedì. Voglio la vittoria, desidero la vittoria. È un onore per me portare la carica da oggi di presidente, ma io chiedo con umiltà un dovere morale, la vittoria. Quale esperienza porta il Varese? Le ha parlato della sua storia personale e anche degli incidenti di percorso. Ma che gli uomini vivono con una logica, che è quella razionale, del bene e del male. Il bene quando sopraggiunge ci fa sorridere. Il male, come nel mio caso, quando mi ha raggiunto mi ha solo determinato a una conservazione di me stesso, guardandomi chi sono, mettendo sempre avanti il mio essere per le caratteristiche che mi hanno caratterizzato praticamente dal mio inizio professionale, dal mio esordio professionale. Avete parlato, non ho avuto alcuna paura su quel piccolo incidente di percorso, perché la mia storia non è quella. Senta, qual è il giocatore del Varese che l'ha impressionata di più quest'anno? Mirto Pere, ecco, come hai detto l'altro? Come si chiama? Mirto Pere, l'altra volta che sei venuto a vedere, mi ha detto, questo qua mi fa giocare... Il mio ragionamento è semplicemente storicistico applicato. I miei preferiti, i miei idoli sono quelli classici che voi benissimo conoscete, no? Da Platini, Michel, l'altro come si chiama? Pelè, Maradona. Maradona è un atto che è un atto di quelli che ha avuto il male dietro. Ma che cos'è? Che cos'è? È il grande valore. Un giorno mi piacerebbe riceverlo anche a Varese, insieme a tutti gli altri, perché il calcio è storicità. Il valore di questi giovani ragazzi che lunedì saranno sul campo verde a pestare quel pallone devono avere in mente questi ideali, nel bene e nel male. Gli incidenti di percorso devono solo portare alla vittoria, in tutti i sensi.